Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Giuliano e oggi Kobo mi ha invitato in un'azienda agricola che si chiama Perla del Garda per conoscere i loro prodotti per digitalizzare silos e cisterne del carburante. Lo so che siete curiosi, se vi state chiedendo che cosa ho in mano è proprio un prodotto che si installa sui silos. Non vi resta che guardare il video per conoscerlo meglio. Oggi mi trovo a Lonato del Garda, precisamente nell'azienda agricola Morenica. Qui con me c'è Stefano, responsabile dell'azienda, che mi racconterà un po', diciamo, di cosa si occupa questa azienda, le coltivazioni. Insomma, raccontami un po', Stefano, l'ettarato, l'allevamento, dimmi un po'. Ciao a tutti. L'azienda agricola Morenica lavora all'incirca 170 ettari di terreno. Le coltivazioni sono mais, frumento, medica, che vengono destinate poi tutte all'allevamento delle bovine da latte. È composta da circa 450 vacche in latte. La produzione di latte è destinata a una cooperativa che produce grana padana e provolone. Negli ultimi tre anni ci siamo attrezzati e abbiamo adottato la minima lavorazione per la coltivazione dei terreni e abbiamo un trattore da 280 cavalli. Attrezzato appunto per la minima lavorazione, cioè l'avete attrezzato per adottare questa tecnica lavorazione un po' più innovativa e conservativa. Ritornando invece Stefano al discorso allevamento, qua dietro di me abbiamo dei silos dove immagino stoccherai tutto il materiale che serve per la razione mista. Qua mi ha invitato Kobo per mostrarmi i sistemi che avete applicato a questi silos. Spieghami un po' come ti trovi e che funzioni ha, insomma, come li utilizzi. Da qualche mese abbiamo installato questi sensori volumetrici sul coperchio del silos, è un sistema molto semplice e indipendente. Attualmente abbiamo un monitor collegato poi in remoto al computer e il prossimo passo sarà quello di avere un'applicazione poi sul telefono, non è altro che un sensore che rileva il volume e di conseguenza il peso, la temperatura e l'umidità. Certo, quindi diciamo che avete più chiara la situazione silos, un po' più a portata di mano. E un magazzino sempre aggiornato. Potete vedere appunto i livelli anche su computer e così via. a fine mese farei gli stoccaggi dei magazzini. Io Stefano ti ringrazio tanto per la tua disponibilità, adesso andremo a parlare con un responsabile Kobo per capire meglio come funziona questo sistema. Grazie mille Stefano! Per approfondire questa interessantissima parte riguardo la sensorizzazione dei silos alle mie spalle, sono qua con Fausto Brocchi di Kobo che mi approfondirà un po' più la parte di prodotto e di installazione. Quindi Fausto spiegami da cosa è composto il kit di sensorizzazione e magari anche l'installazione. Certo, senz'altro. Allora noi parliamo del nostro sistema Kobo che ha sviluppato, quindi Kobo in touch agri, che ci permette di sensorizzare tutti quelli che sono gli asset di un'azienda agricola, quindi tutti i dati di un'azienda agricola. Quindi questo per permettere all'agricoltore chiaramente di avere sotto controllo completamente tutte quelle che sono le attività dell'azienda agricola. Quindi partiamo da quelli che sono i mezzi alla sensorizzazione dei mezzi, degli attrezzi, e quindi automaticamente registrare tutte le attività che vengono fatte dagli automezzi, nei campi o in azienda, fino a sensorizzare tutte quelle che sono le risorse dell'azienda agricola che utilizza all'interno delle attività. Quindi parliamo appunto dei silos, ad esempio come in questo caso, siamo qui davanti alla batteria di silos sensorizzata, che in questo caso ci permette, grazie a un sensore che è in grado di rilevare il livello, il volume, la temperatura e l'umidità di quello che è il prodotto all'interno dei silos. Questo si innesta in un sistema, diciamo, di controllo generale dei dati, delle situazioni dell'azienda, in modo di permettere il controllo completo di quello che è appunto tutte le attività che vengono fatte. In questo caso il sensore ci permette di avere sotto controllo il livello del prodotto, ma non solo il livello, anche la qualità. Andando a rilevare temperatura, umidità, abbiamo anche, oltre alla quantità, siamo anche in grado di riconoscere la qualità. Cioè se ci sono degli spostamenti, se ci sono delle anomalie che ci metterebbero magari a rischio il prodotto stesso. E quindi il controllo della materia. Questo appunto ci permette anche, non solo all'azienda agricola, di avere il controllo, ma anche di innestarsi all'interno di una catena logistica, ad esempio. Quindi quello che è il fornitore di prodotto, di mangime, può essere messo in grado di avere sotto controllo lui stesso i livelli e quindi di controllare le forniture, quindi sapere esattamente quando è necessario organizzare i viaggi per rifornire i silos. Questo ovviamente risolve un problema che è quello di non conoscere i livelli, quindi magari di rischiare di rimanere senza prodotto per gli animali. E questo va in ottica di efficientazione dell'azienda agricola, di tutta la catena, quindi non solo dell'azienda, ma anche dei fornitori. E questo chiaramente porta dei vantaggi sia di efficienza, come abbiamo detto, ma anche di risparmio, anche in termini proprio economici, nel senso che io ho il prodotto nel momento esatto in cui mi serve, né prima né dopo. E questo è permesso grazie ai nostri sensori che sono montati sui silos e i cui dati poi vengono inviati a una piattaforma. Allora poi vedremo magari localmente è possibile visualizzare tutta la situazione dei silos, ma anche da remoto, su qualsiasi tipo di dispositivo mobile o fisso, computer, palmare, tablet e quant'altro, è possibile avere il controllo di tutti i dati di questi silos. Quindi in sostanza, per ricapitolare, un dato più destinazioni, quindi dall'efficientamento dell'azienda agricola, che l'agricoltore può guardare livello e stato del prodotto in questo caso, fino ad arrivare al controllo per il consorzio di fornitura dei mangimi o dei prodotti, o addirittura la tracciabilità di tutto, perché Cobo traccia sia i movimenti dei trattori con i propri sensori, fino ad arrivare appunto ai silos e molto altro, fino ad appunto, sto dicendo, alla tracciabilità per tutti quei progetti di filiero, etichette made in Italy, DOP, DOCG, eccetera. Quindi un dato più destinazioni. Tornando sempre sul discorso silos, magari spiegami brevemente proprio da cosa è composto il kit e come si installa, se è una procedura invasiva o meno. No, assolutamente. Il sensore che poi magari vedremo è un sensore radar, quindi è in grado di penetrare anche tipicamente quello che sono i silos, quindi i materiali di silos in metal racing, quindi non necessariamente è necessario bucare, quindi essere così invasivo, ma lo si può montare sopra, quindi in cima al silos, quindi è in grado di rilevare, di penetrare materiali plastici e rilevare il livello, il volume e il livello di conseguenza. Naturalmente, dato il livello e date le impostazioni che abbiamo nel nostro sistema, è possibile anche risalire al peso effettivo del materiale ancora presente nel silos. Certo, per metro cubo senza necessariamente delle serie di cariche, uno al peso specifico e indicativamente. Esattamente, diciamo che il costo in effetti è molto conveniente rispetto a quello che potrebbero essere altri sistemi classici. Questo sistema innovativo ci permette di avere molti dati del prodotto all'interno del silos, quindi non solo il volume, ma il peso e, come vi ho detto prima, temperatura, umidità. In un'installazione è relativamente semplice perché è sufficiente installarlo al di sopra, alimentarlo e il gioco è fatto sostanzialmente. Certo, poi immagino che se uno ha una batteria di silos come in questo caso, vanno a convogliare tutti i sensori in unica centralina a cui possono essere visualizzati e poi invierà i dati in cloud. Quindi è una procedura anche molto semplice di installazione e da qui l'agricoltore in questo caso potrà avere un report sull'applicativo con tutti i carichi e scarichi, i pesi e controlli appunto anche della salute. Esatto, tutte le statistiche, quindi non solo il livello attuale del prodotto, ma tutto quello che è lo storico, quindi conoscere l'andamento e anche i consumi dei prodotti, rilevandoli da quanto è stato il consumo dei silos. Ovviamente questo, come giustamente dicevi tu, si innesta in questo nostro sistema in touch pensato per agevolare gli agricoltori. Diciamo che con la 4.0 sono stati fatti dei grossi passi in avanti. Probabilmente gli agricoltori sono un po' in difficoltà, soprattutto per la frammentazione che c'è di sistemi. Allora, una delle filosofie di Kobo e di questo sistema è proprio quello di poter integrare, quindi creare un ecosistema dove tutti i dati possono essere convogliati all'interno di un unico punto dove molto facilmente, molto intuitivamente, diciamo, l'agricoltore può accedere per avere una situazione, un controllo completo di tutta l'azienda agricola e di tutti quelli che sono appunto le attività, prodotti e quello che si svolge all'interno di un'azienda agricola. Quindi questa è la filosofia, agevolare, aiutare nel modo più semplice possibile l'agricoltore tramite un sistema e tramite interpretazione dei dati. Ed è quello che noi stiamo facendo, integrando sempre più sistemi che possano aumentare il controllo dell'azienda agricola per fare che tutto sia sotto controllo. Infatti da agricoltore ti posso dire che magari mi trovo con 18 sistemi, 18 applicativi, quindi questa mentalità di ecosistema è importantissima perché sennò dopo uno impazzisce. Ce ne siamo resi conto anche noi andando e girando per le aziende agricole che si lamentano che hanno tante macchine, ogni macchina ha il suo sistema, è impossibile da gestire. Quindi quello che vogliamo e che stiamo facendo noi è appunto quello di integrare e di mettere in un unico punto tutti i dati che sono rilevabili dai vari dispositivi tecnologici che oggigiorno abbiamo a disposizione. Altra cosa molto interessante, Pausto, sono dei sistemi simili però montati sulle cisterne del gasolio per avere un controllo dei carichi, scarichi, dei livelli. Spiegami un po'. Esatto. Come abbiamo detto prima, il sistema vuole raccogliere tutti i dati di tutto quello che viene svolto nell'azienda agricola. Quindi oltre alle macchine, i silos, abbiamo appunto anche il controllo dei rifornimenti, quindi la cisterna di gasolio, che è un aspetto, in termini di costo, sicuramente molto importante, molto impattante per l'azienda agricola, soprattutto oggi con la situazione che conosciamo bene. Quindi abbiamo un kit che è installato sulle cisterne, che possono essere cisterne fisse piuttosto che anche mobili, ci permette di sapere esattamente tutti i rifornimenti che vengono svolti in azienda. Quindi è una cisterna con un monitor, con una tessera che permette all'operatore di abilitare il rifornimento, quindi anche in termini di sicurezza, è un controllo, perché non chiunque può fare il rifornimento, ma solo chi è abilitato. Chi è abilitato permette di fare il rifornimento, quindi ogni trattore viene riconosciuto, quindi viene inserita la targa del relativo al trattore su cui viene fatto il rifornimento, e il sistema mi conta esattamente i litri di carburante che vengono inseriti, erogati, quindi dalla cisterna verso il mezzo. Ok, quindi hai anche un report, diciamo, trattore per trattore, possiamo dire così. Esattamente, lo scopo è quello di avere un registro, cioè un quaderno dei rifornimenti, che mi permette di avere tutti i dati storici, statistici, anche il controllo in real time, di tutti i rifornimenti fatti nei vari mezzi, quindi anche di conoscere, mi permette di conoscere esattamente quanto mi ha consumato in un arco di tempo un determinato mezzo. Inoltre, mi permette sempre di avere sotto controllo tutti i dati, quindi anche quant'è il livello di carburante all'interno di tutte le mie cisterne aziendali, quindi il controllo del dato di tutto il gasolio in azienda, piuttosto che nelle singole cisterne dove io ho sempre il livello sotto controllo che mi va a scalare chiaramente in base ai rifornimenti. Certo, sempre per un discorso, come dicevamo anche prima, di allerte, che quando si lo svuoto, in questo caso la cisterna, mi può anche mandare un'allerta, guarda che sono rimasti solo 100 litri. Esattamente, esattamente. non so, diciamo, non mi dimentico quando rifornire, quando cambiare i vari fornitori e così via. Io Fausto ti ringrazio molto per la disponibilità. Grazie a te Giuliano. E niente, possiamo andare con la chiusura del video. Ottimo, siamo arrivati alla fine anche di questo video. Ovviamente spero sia stato interessante e vi sia piaciuto. Per qualsiasi informazione trovate la descrizione ricca di link e informazioni. Mi raccomando, se volete toccare con mano le soluzioni ai prodotti visti nel video oggi, Kobo vi attende ad Eima 2022 dal 9 al 13 novembre. Detto questo, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, seguitemi su Instagram e noi ci vediamo nel prossimo video. Grazie a tutti.